Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Heroes of the Storm In questa partita utilizzerò Sparachiodi nella mappa Valle Maledetta Buona visione Ok, eccoci qui ragazzi su Heroes of the Storm Sulla Valle Maledetta Hi E oggi sto utilizzando Gaslow Sì, a quanto pare ho avuto la pessima idea di utilizzarlo Anche perché non mi ci trovo bene Comunque, il team blu, cioè il mio, è composto da Hooter, Sergent Hammer, Sparachiodi, Muradin e Tracer Ecco la prima volta che la vedo fuori in gioco Molto bene Contro il team rosso Tassa, Dark Soul, Liminga, Artas e Muradin Ok, in quest voglio provare ad andare un po' per una build impuntata sulla E Quindi, comincerò subito aumentando i danni di carica di Explodio E speriamo bene Anche perché questa qua secondo me è una delle mosse più difficili da azzeccare Però, uh, già vediamo un po' di team fight Tracer Però lì sotto mi sa che le hanno prese di santa ragione Sì, vabbè Cominciamo subito a pushare un po' la lane Cerchiamo di fare ciò che è un buono Sparachiodi fa Anche se non è proprio il mio personaggio ragazzi Non lo è proprio Quindi, non aspettatevi chissà che cosa da me Allora Pusheremo un bel po' la lane Non tratteremo di fare danni Devo ricordarmi Che c'è Exul Quindi può anche negare la mia di fuga Smantello queste torrette con la mia D Recupero il mana speso E avanzo leggermente Metto una qui e una qui Perfetto Attualmente sono solo qui alla top lane Anche perché sto vedendo un forte fight qui a mid Quindi sinceramente voglio approfittarne E continuare a pushare La stessa cosa che stanno facendo a quanto pare Hammer E Hooter Che non è male come idea Cerchiamo di fare quanti più punti possibili Ok Smontiamo un attimo la torretta E indietreggiamo E continuerò a pushare un bel po' la lane Voglio Dare quanto più fastidio possibile alla squadra avversaria Ma soprattutto cercare di prendere quanto più expo possibile In più per il mio team Soprattutto distruggerò questa torretta molto in fretta Molto bene E anche questa breve Potrei smantellare queste torrette Ma per ora voglio concentrarmi un attimo Sul distruggere questa torre Ecco che arriva un'altra andata di minion La torretta Ok così mi aiuta a pulire E anche questa torretta è andata Molto bene Prossimo talento metterò il reattore ARC Che riduce il tempo di recupero di carica di esplodio E può fornire cariche di torretta Sparca tutto Ok quindi Il primo tributo si trova proprio a top E c'ho tassa da qui Quindi voglio andarmene Se Oh The Jux No Oh 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 Ok sono riuscito A fuggire Dal loro attacco Ora sono ridotto un po' male Però c'è il tributo Quindi devo cercare di dare una mano ai miei alleati Putto una Ellie nel mezzo Purtroppo ecco E' la mossa ovviamente più lenta in assoluto Quindi Voglio piazzare qualche torretta Tentare di aiutare Wow Wow Un'altra E Ok dai esplodi Grandioso E Arthas Uh la tripla Attenzione L'arrivo anche di Hammer Credo che abbia sicuramente aiutato Anche se gli avversari sono riusciti a prendere il tributo Siamo riusciti comunque A farne fuori tre E che non è per niente male Ora La top lane è Un po' aperta Ora proverò a spostarmi verso la bot lane Ah ci stai andando tu Ok allora torno a top Veloster di obiettivi E vabbè Vedi il lato positivo della situazione Che cosa potevamo fare lì Quindi Attualmente il nostro vantaggio comincia a incrementarsi piano piano Treser è qui con me a top Non vedo l'ora di provarlo nel senso Questo nuovo eroe Allora Continuiamo quindi il nostro caro push Tra poco dobbiamo arrivare a livello 7 Per poter mettere il prossimo talento Abbiamo perso hammer Metto qualche torretta Quella Faccio sprecare quanto più possibile colpi Al forte Smantello le torrette Ripendo il mana Che ho speso Senza prendere colpi dal forte Quindi Un tributo in preparazione Voglio andare verso Quest'ultimo Le torrette continueranno ad aiutare magari le ondate di minion Quando arriveranno Nuova talento E voglio mettere Torretta spacca tutta la lenta I nemici Così magari ho qualche possibilità In più magari di Azzeccare La mia è Quindi cercherò di prendere il tributo Mentre gli avversari sono attualmente Abbastanza distratti Distratteli ancora un po' Ok Sono riuscito a raccogliere il tributo Ed ecco qui La torretta Metto nel choke point Carico Però purtroppo non siamo riusciti a fare un granché Metto una nuova torretta Abbiamo fatto una doppia Anche noi abbiamo persi due Però ancora il combattimento continua Metto la mia E Sulla loro via di fuga Ma purtroppo Non funziona lo stesso Però nel frattempo Siamo riusciti Mi sa A farne fuori ben quattro Ok Eccomi qua ragazzi Scusatemi per il tipico taglio Però sfortunatamente Non ci posso fare nulla Ok quindi La situazione Quanto pare Devo andare a prendere il prossimo tributo Qui c'è una piccola ondata Che avanza Metto una torretta Che aiuterà un po' le nostre torri E qui c'è un grosso team fight E purtroppo sono riusciti a prendere Forse no Non ci sono ancora riusciti a prendere Tributo Butto una Ellie nel mezzo Tentando di Difendere Hammer Ma non ci riesco Metto nuove torrette Ne metto proprio più di 8000 Anche perché Probabilmente riuscirò a far fuori Sul Z Z Z Z Metto una nuova E sul loro choke point Niente da fare però purtroppo Quindi sono costretto a battere In ritirata E hanno conquistato Il loro secondo tributo Ok Uh Ok Tutto bene Tutto bene Attenzione Tracer Perché c'era Muradin Non solo Deve essere anche abbastanza squishy Visto che E' ipermobile Questo personaggio Quindi Andrò di nuovo Verso la top lane Continuerò a prendere Exp per il team Cercherò di arrivare A livello 10 Per sbloccare le nostre Ultimate Magari cerchiamo di portare Questo vantaggio A buon frutto Perché So di poter utilizzare La combo R E beh Spero di riuscire A utilizzarla Bene ed eccolo qua Gravy Bomba 3000 Ok La Gravy Bomba Sarà in grado Di spostare Tutti gli avversari Verso il suo stesso centro Quindi Con una buona combinazione Di R Ed è Oh cacchio Sarò in grado Probabilmente Di scappare qui Sì Non dovrebbero essere Così difficile Ok E Hammer Si era un po' preoccupata Però Abbiamo il nuovo tributo Dobbiamo cercare di prenderlo Necessariamente Però questa volta Siamo a livello 10 Abbiamo un piccolo vantaggio Uther 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 Eccola la combo Oh Ma anche Sfrutta la combo E riusciamo a far fuori Mi sa Artas E io ora cercherò di prendere Il tributo Ma ecco Tassadar Che prova a interrompere Il mio progresso Però a quanto pare Siamo riusciti a conquistare Il secondo tributo Per noi Impedendo al team avversario Di prendere il terzo Quindi siamo ancora In gioco ragazzi Ok Adesso torno Sulla top lane Tassadar Sta cominciando a pushare Vedo Uther Vedo Oh ecco Lo stordimento Provo a buttare una E Però purtroppo Al solito Non funziona Probabilmente dovrei provare A mettere prima le torrette E poi Provare a colpire Gli avversari Con la mia E Ora anche gli avversari hanno L'ultimate Quindi dovrò fare attenzione Tassadar vuole smontare Le mie torrette Ma le smonto prima io Ripendendo anche il mana Ok Continuo Il mio push Vedo un team fight Verso la mid lane Ma continuerò a pushare qui Proprio per dare Il massimo del fastidio Cerco di dare Quanto più contributo possibile Al mio team in exp Vediamo un po' come sta andando Accendere la situazione Sembra piuttosto drastica Lì Ok Cerco di prendere Questo forte E vediamo Di prendere Ancora più vantaggio Arriva il tributo E anche piuttosto vicino a me Dove riuscire A prendere Questo forte La E Please Grazie Non so perché Stava ritardando In modo esagerato Ed ecco che riesco A distruggere Il forte E ora Prossimo talento Essendo la portata Il raggio Della mia carica Oh Siamo nel tracer Vienesce a misata A battere Muradin E a scappare È fantastico E io riesco a prendere Nel frattempo Il tributo Indisturbato E quindi Cominceremo subito A pushare Gli avversari Continuerò io A dare fastidio Sulla top lane Quanto più possibile Visto che vedo Due I nostri avversari Bloccati a mid Dall'attacco Di Hammer E di tracer Nel frattempo Muradin e Uther Stanno scendendo Sulla bot lane Io continuerò La mia avanzata Qui Utilizzerò Velocemente Una doppia V Per liberarmi Di tutti i minion E poi comincio A piazzare torrette Però a quanto pare Hammer viene Abbattuta Oh C'è anche Muradin Mi vuole affrontare Ma Ma tutto bene Prende in faccia La mia E Ci sono le torrette Che continuano a sparargli Un pochino Continano anche a sparare Alle loro torri Qua il muro È completamente crollato Ma vedo Li Ming da dietro E ora dovrò fuggire Utilizzo la mia ulti Nae qui Ding Boom Ok Riesco a prendere anche Arthas Scappa Tracer Rallento Muradin Attenzione però Tracer va Ci va Attenzione carico un po' Boom Riesco a prendere Tassadar Però attenzione Ritirati un attimo Per favore Anche se Puoi sicuramente Prendere quella kill Grandioso Ottimo Quindi Uh Attenzione Tracer continua però È costretta Mi sa A utilizzare Il suo Torno indietro Oh no Ecco che purtroppo viene Abbattuta Con l'arrivo di Xul Ok Quindi adesso Mi sposterò verso La mid lane Tenterò di aiutare Un po' Hammer Anche perché Da sola non potrebbe stare In queste situazioni E vedo Muradin e Uther Che prendono il campo Però Cerco di salvarti Ok Forse Ce la puoi fare Sì ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Ok adesso è il momento Di girarci su Xul Nuovo talento Eh La carica Ottiene Un secondo Colpo Quindi Lo metto qui Provo a buttarle un po' Nei punti più adatti Più o meno Completamente Però attenzione Non ho la mia ulti Tento di buttarla qui nel mezzo Attenzione Ci vogliono pushare Ah Liming 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 Scappa Uther Scappa Uther Ah no Niente da fare Meglio che Fuggo Meglio che scappa Fuggo Non so perché ho detto Fuggo Il panico Non aiuta Non aiuta per niente Attenzione Muradin Lì nel Bash Tenta di dare fastidio Sta arrivando anche io Di nuovo Con Hammer E Tracer Dovesti ricaricare Esatto Attenzione Sta arrivando anche io Lì nella mischia C'è la mia combo Ho avuto qui Uuuuh Però purtroppo ho lisciato Tutti i colpi possibili Immaginabili Però Riusciamo A prendere La quadra Grandioso Ottimo lavoro team Quindi Questo team fight È stato Abbastanza vinto Sono implacabile Incredibile Ma vero Che è successo oggi Gaslow Ti stai comportando bene con me Grazie Ti ringrazio veramente Almeno non faccio una figura di schifo Davanti a tutto internet Ok Continuiamo quindi Il nostro push Quindi sulla mid lane Vediamo sul Stava leggermente attaccando Top lane Ora c'è il tributo Dobbiamo continuare a prenderli noi Necessariamente Se no Gli avversari ci malediranno Anche se comunque abbiamo fatto Molti danni Quindi una maldizione In questo momento Non dovrebbe essere Poi così Pericolosa Come potrebbe sembrare Però è meglio non Dargliela dai Abbiamo la possibilità Approfittiamone Ecco qui Riesco a prendere Il tributo E comincia A quanto pare Un fight Però Gli avversari Perdono sul subito Comincio a mettere Delle torrette Qua e la Metto due cariche Su due lati Differenti Però ovviamente C'era il terzo lato Davvero difficile Da azzeccare Questa nostra faccia Davvero schifo Ok Potremmo fare in effetti Il boss Il che non è Una cattiva idea Potrebbe aiutare davvero molto Con il nostro push Messo un bel po' di torrette In posizione In caso Per difenderci Anche da qualsiasi tipo di attacco Ma ecco qui Che riusciamo ad assicurare Tranquillamente Questo boss E adesso Proviamo Un piccolo push Sulla bot lane Insieme al boss In effetti Non sarebbe poi male Attenzione Tassadar In modalità Arconte Ma Non riesce poi A fare abbastanza danni Però hammer Si Uh Tassadar Viene abbattuto Da un ottimo Ulti di Hammer E io butto Una ulti qui Per quando mai Le azzecco Nessuno proprio Però A quanto pare Siamo riusciti A ridurli davvero In polpette Ok Perfetto Quindi Devo provare A utilizzare La mia Un po' Sul Loro Tracciato Piuttosto che Su dove sono Sul momento Si perchè no Potrebbe essere una buona idea Ok quindi col boss Comincerà un push davvero pesante Da parte nostra Comincerò Smantellare queste torrette Il nostro boss È apparentemente morto Ecco qui che crolla Quindi è il momento di Fuggire Scappare via da qui Anche perchè Se no Ci Tranciano Attenzione Tracer Attenzione Oh oh Ho fatto una mossa un po' Azzardata Tenterò di aiutarla Ok Via Andate Utilizzerò quella E per Zunarli Così avremo la ritirata Totalmente libera Benissimo Ora Oh oh Quanto pare Continua il combattimento Qui E la situazione Potrebbe essere Davvero drastica Per noi Ok Utter Tracer Please Ok Andatevene via E basta Niente da fare Oh oh Qui la situazione Continua a peggiorare Invece che migliorare Potremmo andarcene E basta Hammer No Tracer No Ok Corsa Uff Le azzeccate per una volta Tutte e due Adesso Andatemene Andatemene Accidenti Oh oh Questa è una situazione Un po' drastica Quindi C'è anche il tributo E noi siamo ridotti Davvero male Ah Uh Oh 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 Beccatevi questo Che torretta qua è là Uh Muradin lì nel mezzo Uso la mia ultimate Faccio partire prima Il missile Ma sono riusciti Purtroppo A Maledirci però Mamma mia Che cosa è successo Per una volta Azzeccato Mi sa La comba La comba La combo Correttamente È successo Il finimondo E ok Tutta la squadra Avversaria è stata Abbattuta Quindi nonostante La maledizione Siamo A posto Non abbiamo Grossi problemi Ora dobbiamo solamente Un attimo Difenderci dai minion Magari Soprattutto in top E Poi Saremmo Più che tranquilli Quindi questa maledizione Non è andata Per niente A buon fine Per i nostri Avversari Proprio il top Abbiamo perso Un forte Sulla mid lane Ma Vabbè C'era un po' Poco da fare C'è tracer A top Quindi andrò Verso la bot lane Momentaneamente Dopodiché Vorrei prendere Qualche assediatore O qualche campetto Non sarebbe male Dovremmo fare campi Ragazzi Cominciare a A aumentare Un po' La pressione Sulle lane Anche perché Possiamo permettercelo Ok Tutto a posto Torrette posizionate Ok Così Sì Oltre al boss Non sarebbe male Però Hammer Appena è stato ucciso Nuovamente Cammina un po' Troppo da sola Non va bene Ok Gli alleati Stanno facendo Il boss Ok Comincio a smontare Le torrette Appena arrivano I minion Potrò andarmene Così la lane Continuerà A pusharsi da sola Gli avversari Prendono Un camp Di assediatori Ecco Non so perché Oggi proprio Mi sto impappinando Per fare un po' Attenzione Comincio A prendere questo campo Anche perché Il boss è stato Preso Ok Boom Boom Benissimo Probabilmente Avrei potuto Farlo un po' Meglio Anche il forte Di bot È stato preso Ma ora Arrivano anche Gli assediatori Sì Perfetto Abbiamo preso Questi assediatori Tracer ha preso I combattenti Molto bene Benissimo Proseguiamo con La difesa Della bot lane Nel frattempo Il boss Sulla top lane Potrà prendere La seconda fortezza Forse Chi lo sa Vediamo un po' La situazione Non ce la farà Giusto per poco Ma va bene Potevamo Seguirlo E magari Fare ancora più danni Ma va bene Cerchiamo di finire La partita Prima che i nostri bersagli Riescano a prendere Il livello 20 Magari Vincere un team fight Prima Che dobbiamo fare Chiede di ritirarsi Ok Andiamo a prendere Qualcos'altro Non so Facciamola qualcosa Perché così Stiamo dando solamente Il tempo di riprendersi Ok Quindi volevano Distruggere Necessariamente Quella fortezza Per far spawnare Le cataputte Anche da questo lato Arriva Muradin Da dietro Questo sarà ora Un fight terribile Ne sono sicuro Mura di un avversario Però si butta nel mezzo Arriva anche Artas Ci mettono in difficoltà Io utilizzo la mia Doppia E La mia ulti Boom Però Purtroppo Non c'erano Proprio tutti Ragazzi Dobbiamo andarcene Scappate Abbiamo pure un tributo A disposizione Attenzione Perché Xul Attenzione Muradin No Carico al massimo Boom E attenzione Riesco anche a mettere Fuori uso Xul E adesso Dovemo Il tributo Verrà preso Da Muradin E io devo scappare Anche perché Non credo di poter Continuare il combattimento Vabbè Sì posso aiutarvi Sì 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 Ok torrette Oh mio dio Qualcuno deve pushare Oltre me Cioè o comunque Deve tankare Oh no 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 Non ti azzardare Stupido nucleo Ok nemico ucciso Living Ebbene ragazzi Questa partita Si chiude così Con una nostra Buona vittoria Molto bene ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Un commento qui sotto Iscrivetevi al canale Per altri video Che arriveranno Molto presto sul canale Ma soprattutto Condividete con i vostri amici Su facebook twitter O dove preferite Per il mio momento Da X7 è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao